il new york times un paio di giorni fa ha definito netflix un intero universo tv parallelo che si sta ancora espandendo in effetti da quando netflix ha lanciato la sua prima serie nel 2013 house of cards ha sempre registrato una crescita passando da poco più di 40 milioni di abbonati ai 117 milioni del 2017 lo scorso anno è stato un anno particolarmente positivo per netflix secondo i dati riportati da repubblica netflix ha raddoppiato gli utili nel corso dello scorso anno e in più nell'ultimo trimestre del 2017 ha registrato più di 8 milioni di abbonati in più ma qual è il segreto del suo successo serie tv popolari come stranger things oppure 13 format innovativi come per esempio la possibilità di vedere una serie per intero secondo si nbc il segreto di netflix sta in un utilizzo consapevole dei social media ma il new york times ha messo in guardia il re dello streaming dal diventare solamente una tv parallela perché non si può essere rivoluzionari portando le persone lì dove sono già state quindi per continuare a crescere netflix dovrà presto pensare a qualche strategia innovativa che cosa si inventerà il non non è il no bene no 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 Grazie a tutti.